Mototerapia a Varazze. Mototerapia? Ma che cos'è questa cosa? La prima volta che l'ho sentito ho detto impossibile come mototerapia per disabili. Invece guardate un po', tra l'altro abbiamo una protagonista piuttosto particolare, simpaticissima, Ilaria. La mototerapia per noi è una cosa molto bella perché è l'opportunità dei ragazzi che non hanno mai trovato ad andare in moto di provare questa cosa con dei campioni e divertirsi per qualche minuto sulla moto. Ed è una cosa che molti ragazzi non hanno l'opportunità di fare. Da quanto tempo ti sei avvicinata e perché? In che occasione? Io ho conosciuto la mototerapia circa un anno e mezzo fa quando ho conosciuto Vanni perché ha fatto uno show qui a Varazze, il Varazze al Dore e da quel momento siamo diventati amici e infatti da un anno e mezzo giriamo insieme anche perché anch'io faccio cristalli in carrozzina e quindi ci siamo trovati e ci alleniamo anche insieme. Questa cosa ti entusiasma molto, ti vedo sempre in queste performance. Quanti anni hai? Io 23 anni. Molto bene. Allora, buon divertimento e soprattutto ci metti tanto impegno, ti vedremo e ti riprenderemo durante queste performance. Grazie, Nadia. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.